Quello che stiamo vedendo è un atto veramente drammatico di una gravità unica. Si distrugge una famiglia, rimangono due bambini, due bambini soli, accoliti ora dai nonni di lui, visto che la ragazza non aveva famiglia praticamente, aveva perso i genitori, la mamma la piccola, il papà recentemente, o un fratello che sta in Inghilterra. Cosa dico? Non sappiamo che cosa sia successo veramente, omicidio per gelosia, non abbiamo avuto mai segnalazioni di atti violenti, anche le persone vicini che abitano sono rimaste attoniti a questa notizia. Però di fatto voglio dire un uomo che uccide la propria compagna e uccide in quel modo.